Coppumbria Casa ha donato all'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla di Perugia un mezzo per il trasporto di sabili. È un Citroen Jumper con sei posti a sedere e due per le carrozzelle che riesce a trasportare 4 o 5 malati con accompagnatore. Noi ogni anno dal 1995 l'Assemblea dei Soci destina delle risorse per acquisto di apparecchiature, di attrezzature o a favore come in questo caso di un'importante associazione di volontariato, l'Aism di Perugia oppure direttamente a favore delle asle che operano nel territorio dell'Umbria. Andiamo su questa linea, anche quest'anno l'Assemblea dei Soci che si è tenuta pochi giorni fa ha donato un'automedica a un'altra importante associazione che opera a Foligno la Croce Bianca e proprio continuiamo in questo solco di solidarietà e di mutualità perché noi crediamo che una cooperativa come Copp Umbria Casa cresce e si sviluppa se cresce e si sviluppa anche la collettività in cui la cooperativa lavora. Opportunamente modificato per soddisfare le esigenze di trasporto e per essere accessibile alle persone con ridotte capacità motorie è dotato di una passerella mobile che permette di sollevare e introdurre comodamente nel veicolo le sedie a rotelle. L'intervento nasce da una proposta di uno dei soci di Copp Umbria Casa, Mauro Bellici. Quanto è importante questo automezzo per l'Aism? Certo, è fondamentale perché fino adesso abbiamo avuto un altro mezzo che ci permetteva di trasportare solamente una carrozzina invece con questo che ha una capacità di sei posti più due carrozzine riusciamo a sviluppare tante altre attività e quindi siamo ancora più vicini a tutte le persone che ne hanno bisogno. Dì, 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 dì Grazie a tutti